Weee! Non fare il babbo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra, sul tasto, supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAGLE! Weee! Bella a tutti ragazzi! E porca miseria sono su un albero! Ciao! Benvenuti a questo nuovo video! Io sono XIODER! Ragazzi ultima sfida! Mezzinverno cercare due casse di munizioni nella fabbrica o nella falegnameria o nel trono di ghiaccio Beh ragazzi è davvero semplicissimo, snappi a parte, siamo arrivati alla destinazione, la fabbrica è proprio la falegnameria vicino alla foresta ragazzi, quindi potete anche tranquillamente andare proprio nella sezione principale e prendere le casse di munizioni, ma se siete fortunati ne trovate anche una dietro qua di solito c'è, vediamo se c'è anche questa volta la prima, la apriamo secondo me non è la falegnameria vediamo se la seconda ci aiuta, è davvero semplicissimo riuscire a prenderla, quindi basta semplicemente entrare, spaccare anche perché la prima parte qua l'hanno già aperta, allora ce n'è una proprio qua e la... ah non le conta la esterne qui dovete per forza entrare dentro la falegnameria, mi raccomando eh non dimenticate questo passaggio, dovete essere obbligatoriamente dentro la fabbrica per fare questa sfida quindi ragazzi, a parte il tizio che mi segue prepotentemente io in questo girotondo vi ringrazio per avere guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, rimanete dentro la falegnameria noi siamo in live su Twitch ciao ciao